Con la pubblicazione del Report 2018 sulla incidentalità stradale in Calabria, sulla base dei dati forniti dal Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo, la Regione Calabria contribuisce a raggiungere l'obiettivo perseguito anche a livello europeo della incidentalità zero e orientare consapevolmente gli interventi infrastrutturali sul territorio, e quanto dichiara l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno in merito alla diffusione delle analisi statistiche elaborate dal Centro Regionale per la raccolta dei dati sugli incidenti stradali avvenuti nelle cinque province calabresi nel 2018 e messi a confronto con le statistiche degli anni precedenti. Fin dalla sua istituzione, il Centro Regionale degli Incidenti Stradali della Calabria, CRISH, ha posto al centro della propria attenzione l'individuazione delle criticità esistenti nel sistema viario regionale per ottenere attraverso appositi correttivi una riduzione della incidentalità. Il CRISH opera attraverso una piattaforma informatica online che collega in rete la Regione e per essa l'osservatorio sulla mobilità e la sicurezza stradale, tutte le province calabresi, il Ministero dei Trasporti, l'Istat, l'Istituto Centrale di Statistiche, le Forze dell'Ordine che hanno il principale compito di registrare i dati di ogni incidente stradale che si verifica sul territorio. Di rilievo, dice ancora l'assessore Musmanno, è l'operatività di un tavolo interistituzionale permanente di confronto che si riunisce ogni mese e, assieme all'attività di studio dei flussi informativi della piattaforma WEF, unisce azioni informatiche verso i cittadini e cura la formazione dei tecnici che operano nel settore della sicurezza stradale al fine di assicurare standard qualitativi e procedure operative comuni per il governo della sicurezza stradale in Calabria. Il tavolo tecnico, conclude l'assessore Roberto Musmanno, oltre che a diffondere negli enti comunali le migliori pratiche di formazione civica, conduce una specificazione anche tra gli alunni delle scuole della regione e tra i ragazzi e i giovani.